Buongiorno ragazzi, ben ritrovati sul mio canale. Oggi una piccola informazione ma molto importante perché tanti ma tanti sbagliano il momento di acquisto delle carb per la squadra. Io capisco le esigenze perché magari oggi vi ritrovate a dover fare rivals, domani vi ritrovate a dover finire un obiettivo e lì va bene, ma tendenzialmente c'è un momento buono per l'acquisto e un momento non buono per l'acquisto. Partiamo dai momenti sbagliati. Se voi volete comprare un giocatore per la squadra non dovete assolutamente comprarlo il lunedì, non dovete assolutamente comprarlo il martedì, non dovete assolutamente comprare il giovedì dopo il rilascio dei premi, perché tutta la gente una volta che ottiene i premi rivals va a comprare i giocatori per la squadra. Non dovete comprarli il venerdì, perché il venerdì succede che la gente ha fatto la squadra per la VL, i prezzi sono alti. Non dovete comprarli il sabato mattina o sabato primo pomeriggio, perché è il pieno della VL. Mentre quando a comprare ovviamente ci sono tanti momenti buoni, ci sono momenti migliori e momenti peggiori, ma tendenzialmente in linea di massima i momenti migliori possono essere tra la sabato sera, tarda serata, anche notte, fino a domenica mattina prima del rilascio dei premi battles, perché anche qua rilascio dei premi battles significa che la gente acquisisce denaro, crediti e va a spenderlo all'interno della propria squadra per fare miglioramenti per la propria squadra. Un altro momento ottimo è il mercoledì sera, tarda serata, notte, perché anche qui abbiamo visto che tendenzialmente il mercoledì vengono rilasciati contenuti hero o icon e lì la gente tende a svendere pezzi della squadra per potersi poi completare da SBC. Poi il giovedì mattina le carte oro, le carte spacchettabili della promo possono avere prezzi interessanti nei primi 15-20 minuti dal momento in cui vengono rilasciati i premi, perché la gente in quei momenti spacchetta e vende ciò che trova, dopodiché i prezzi salgono. Quindi, momento di acquisto migliore settimanale, mercoledì sera, notte, prima del rilascio dei premi rivals. Mentre per quanto riguarda il post VL, vi ho spiegato tra sabato sera e domenica mattina pre premi. Anche domenica sera si trovano le occasioni. Fatemi sapere nei commenti, ragazzi, se sapevate di questi momenti migliori. Grazie per la compagnia e iscrivetevi al mio canale YouTube e trovate in descrizione un link dove con pochi euro al mese accedete al nostro server Discord e potete guadagnare tanti crediti ogni settimana, ogni giorno, grazie ai miei consigli di compravendita. Alla prossima, ragazzi. Ciao!